maxi furto di armi in una casa in campagna controlli della polizia sulla strada statale 640 città libere dal fumo lettera aperta ai sindaci del nisseno dalla consulta giovanile della lilt garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza 200 pasti per le famiglie fragili di caltanissetta ben trovati in questa edizione del nostro telegiornale maxi furto di armi in una casa in campagna portati via quattro fucili e una pistola detenuti regolarmente da un settantenne alcuni malviventi si sono intrufolati nell'abitazione di campagna un ex casello ferroviario di naro che è stato comprato e ristrutturato da un professionista e sono riusciti a scardinare la cassaforte oltre ai soldi e oggetti di valore lo scrigno conteneva una pistola calibro 28 due fucili sovrapposti calibro 12 una doppietta calibro 16 e un fucile calibro 20 armi tutte legalmente detenute e messe a punto al sicuro dal professionista 67enne dal maxi furto di armi si è salvata soltanto una carabina beretta calibro 22 che era stata lasciata fuori dalla cassaforte e riposta in un'altra stanza il professionista ha subito formalizzato una denuncia di furto a carico di ignoti lite tra due donne vicine di casa intervento della polizia di stato scatta una denuncia scoppia una lite l'ennesima tra due donne vicine di casa e una delle due minaccia di gettare candeggina sul balcone dell'altra i poliziotti del commissariato di canigatti accorsi prontamente per riportare la calma sono stati accolti con insulti e offese da una 34enne canicattinese la stessa poi ha afferrato un vaso di fiori e ha minacciato gli uomini in divisa di tirarglielo addosso la donna è stata dunque portata in commissariato e denunciata in stato di libertà alla procura della repubblica di agrigento per l'ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 74enne è stato scippato mentre parlava per strada al cellulare l'anziano preso di mira da due giovani a canigatti un uomo di 74 anni ha subito uno scippo l'anziano era uscito di sera intorno alle 19 per alcune commissioni stava percorrendo via veneto una strada vicino alla villa comunale in pieno centro e mentre parlava al cellulare è stato avvicinato da due giovani che dall'aspetto non dimostravano avere più di 20 anni i due gli avrebbero letteralmente rubato dalle mani lo smartphone e si sarebbero dati alla fuga l'anziano pensionato che non ha subito danni fisici pur provato psicologicamente ha subito denunciato il fatto al commissariato della polizia di stato locale gli agenti hanno poi avviato le indagini per risalire i due malfattori ad oggi ignoti controlli della polizia di stato sulla strada statale 640 grigento caltanissetta multe per eccesso di velocità e mancata revisione dei veicoli una vendina di automobilisti non tutti giovanissimi lungo la raddoppiata statale 640 la grigento caltanissetta sono stati sanzionati altri ma un numero esiguo sono stati intercettati e bloccati invece sul versante statale 115 tutti sono stati naturalmente sanzionati dagli agenti della polizia stradale che è coordinata dal vice questore andrea morreale la multa è stata in media di 280 euro il ritiro della patente di guida è invece ancora in fase di valutazione anche perché dipende di quanti chilometri orari hanno superato il limite di velocità 20 le contravvenzioni elevate durante l'ultimo in ordine di tempo controllo effettuato dalla polizia stradale di agrigento ad immortalare le auto è stato il telelaser tru cam di cui è in bossesso la stradale si tratta di un'apparecchiatura dotata di videocamera che in grado di generare brevi video che servono a supporto delle infrazioni accertate sono state inoltre anche pizzicate tre auto senza assicurazione e senza revisione e anche in questo caso sono scattate le contravvenzioni al comune di caltanissetta la sesta commissione è stata convocata a gennaio per discutere sul regolamento relativo all'istituzione della figura del garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il presidente della sesta commissione consigliare del comune di caltanissetta tilde falcone ha convocato per il 3 gennaio 2023 una seduta della commissione da lei preseduta con argomento all'ordine del giorno la discussione in merito alla proposta dell'approvazione del regolamento per l'istituzione della figura del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza quanto riguarda il regolamento per il garante per l'adolescenza e la commissione sta lavorando a questo questa bozza di regolamento apportando degli emendamenti approfondendo e studiando il regolamento in tutte le sue parti in tutto il suo articolato e dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni. Devo dire che questi due regolamenti sia quello per quanto riguarda la disabilità che per quanto riguarda il garante per l'adolescenza vengono fuori ovvero scaturiscono da due emozioni presentati dalla collega consigliera Caruso per queste due figure che sono di importanza incredibile notevole per quanto riguarda la collettività per quanto riguarda il disabile per il regolamento per la figura del garante della disabilità. Caltanissetta è una delle prime città in Sicilia ad averlo insieme ad Agrigento appena questo sarà approvato dal Consiglio. Quindi siamo in fase di approfondimento, è una commissione giorno 3 interlocutoria dove continueremo a lavorare a questo regolamento. Sarà mia premura appena ci sarà l'approvazione del regolamento di poter spiegare molto bene il regolamento stesso ai cittadini nisseni. 200 pasti per le famiglie più fragili di Caltanissetta diverse le iniziative di solidarietà in città. Purtroppo i numeri della povertà in città aumentano a dismisura ma fortunatamente anche la generosità dei nisseni è veramente sostanziosa. Queste le parole del presidente della sezione nissena della Croce Rossa italiana Niccolo Piave. Nei giorni a ridosso del Natale sono stati circa 600 i pasti distribuiti in tre giorni dalle famiglie che appartengono alla fascia economicamente più svantaggiata della città. Ben 200 i pasti consegnati per la vigilia, oltre 400 quelli tra il Natale, e Santo Stefano grazie ai donatori. Così i volontari della Croce Rossa italiana con i cuochi della cooperativa sociale Etnos insieme all'istituto Testa Secca di Caltanissetta e all'associazione panificatori di Caltanissetta hanno lavorato in rete. Le festività natalizie possono divenire il periodo dell'anno in cui la solitudine fa sentire maggiormente i suoi effetti. Lo sanno bene i nostri volontari dice ancora il presidente Piave. Sono tante le famiglie in gravissime difficoltà economiche, spiega. Molti genitori hanno perso il lavoro o non lo hanno mai avuto, oppure hanno problemi di salute o sono sopraffatti dalla solitudine. C'è chi non ha neanche la possibilità di acquistare la bombola del gas. Inoltre presto sarà trasformato il servizio di unità di strada in unità mobile di assistenza ai fragili per incrementare le competenze stringendo accordi commerciali con enti e associazioni che, oltre a fornire l'invenduto, potranno effettuare donazioni di vestiario, giocattoli e altri beni che le ditte potranno donare alla Croce Rossa italiana e che saranno destinati ai bisognosi. Tra i donatori in questi giorni di festa ha anche l'amministrazione penitenziaria di Caltanissetta che provvede a consegnare i pasti non consumati dai detenuti completi di frutta, verdure e condimenti come consente al regolamento penitenziario. E poi la Croce Rossa provvede alla distribuzione alle famiglie o alle mense sociali della città. Parliamo adesso di pensioni. L'Inps ha pubblicato la circolare sulla rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Rinnovo pensioni 2023. L'Inps ha comunicato ai pensionati di avere concluso le attività di rivalutazione che riguardano le pensioni e le prestazioni assistenziali con la circolare 135 del 22 dicembre 2022. L'Istituto di Previdenza Nazionale ha così chiarito anche le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per il prossimo anno comunicando criteri in modalità applicative della rivalutazione sia delle pensioni che delle prestazioni assistenziali e dell'impostazione dei relativi pagamenti. La circolare specifica quali sono le modifiche apportate alla rivalutazione e all'aumento del trattamento minimo. Per poter effettuare la rivalutazione si considera il cumulo per equativo che vede come un unico trattamento tutte le pensioni di cui si è titolari. Inoltre dall'articolo 2 del decreto del 10 novembre 2022 che è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si dispone che il rinnovo delle pensioni per l'anno 2023 preveda una rivalutazione provvisoria delle prestazioni pensionistiche con una percentuale pari al più 7,3% ritoccato con aumento anche per il trattamento minimo. Rivalutazione e trattamento minimo delle pensioni sociali e degli assegni sociali che vedranno una variazione degli importi della rivalutazione stessa per le seguenti categorie di pensionati per quanto riguarda la pensione sociale se dal 1 gennaio 2022 l'importo annuo era pari a 386,54 euro, dal 1 gennaio 2023 sarà di 414,76 euro. Per quanto riguarda l'assegno sociale se dal 1 gennaio 2022 l'importo annuo era pari a 469,03 euro, dal 1 gennaio 2023 sarà di 503,27 euro. Sono escluse dal calcolo delle prestazioni pensionistiche, quelle a carico di assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del fondo clero ed ex-enpao, dell'indennizzo, dell'accessione delle attività commerciali che vengono perequate singolarmente, quelle a carattere assistenziale e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo, delle stragi di matrice terroristica e quelle che vengono rivalutate singolarmente e con propri criteri. Vengono escluse inoltre quelle di accompagnamento a pensione, che sono sottoposte ad alcune rivalutazioni durante il corso della loro durata, e quelle di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva per le quali non siano state liquidate quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico contributivo più elevato. Inoltre, per l'anno 2023 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia all'assegno sociale sarà pari a 67 anni. Poi i pagamenti dei trattamenti pensionistici degli assegni delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e nonché anche le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva non bancabile con unico mandato di pagamento. Ne fa eccezione il mese di gennaio in cui l'erogazione avverrà il secondo giorno bancabile, cioè il 3 gennaio. È l'Agenzia delle Entrate a comunicare che sono pronte le bozze dei modelli con le istruzioni per le dichiarazioni dei redditi 2023. Il servizio. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli per il 2023 con le istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi del nuovo anno presenti all'interno del sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Intanto la legge di bilancio di quest'anno prevede la proroga del super bonus, del sisma bonus e dell'eco bonus per gli interventi sugli immobili e sarà necessario indicarli all'interno del 730 dei modelli di redditi di persone fisiche. C'è inoltre l'introduzione dei redditi di imposta per sostenere le imprese e gli operatori economici nell'acquisto di gas e prodotti energetici. Parlando delle novità che sono state comunicate dall'Agenzia delle Entrate, la presentazione del modello 730 del modello redditi persone fisiche prevedono la rimodulazione degli scaglioni di reddito, la ridefinizione delle detrazioni di imposta per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il cambiamento della disciplina delle detrazioni per carichi di famiglie e di conseguenza anche del prospetto delle dichiarazioni dei familiari a carico a seguito dell'introduzione a partire dal mese del marzo 2022 dell'assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore ai 20 anni. L'introduzione di un bonus che viene riconosciuto per le spese relative all'intestazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'introduzione di un bonus che viene riconosciuto per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, cioè programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche. L'inserimento di un credito di imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy, cioè bonus che viene concesso nella misura del 30% delle somme erogate e che viene innalzato al 60% se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori che hanno un tasso di disoccupazione superiore rispetto a quello che risulta alla media nazionale. Novità anche per il modello 770. Verranno inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti e confermati quelli relativi all'emergenza Covid-19. Introdotto anche un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio, ordinari e alternativi. Novità ulteriori per i modelli impresenti e società modello IRAP. Credito di imposta social bonus, abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, nuovi contributi per fare fronte agli effetti negativi che derivano dall'eccezionale incremento dei prezzi di fonti energetiche e del gas. Detassazione per gli utili che vengono percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Viene inoltre introdotta una nuova gestione semplificata delle deduzioni per lavoro dipendente nel modello IRAP. Emeroteca all'ex scuola Luigi Monaco che diventerà sede decentrata della biblioteca Scarabelli. E' apparsa qualche settimana fa sul sito del Comune Nisseno tra i documenti pubblicati all'albo pretorio la determinazione in merito all'approvazione del progetto definitivo esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell'ex scuola Luigi Monaco. Al suo interno infatti verrà trasferita l'emeroteca e dunque diventerà una sede decentrata della biblioteca Scarabelli. E' stato approvato un progetto già finanziato con i fondi del Ministero degli Interni che fa capo alla rigenerazione urbana. Avremo la possibilità di già realizzare il primo lotto funzionale per quanto riguarda la sistemazione dell'emeroteca che sarà appunto un'estensione della biblioteca Scarabelli nel sito della ex scuola Luigi Monaco. In questo modo avremo la possibilità di restituire alla città la scuola che attualmente non è agibile sistemando tutte le stanze e anche ripristinando il lastrico solare con la risistemazione appunto del tetto, alcuni cornicioni ammalorati, insomma per fare in modo che possa diventare una succursale della biblioteca Scarabelli stessa. Per quanto riguarda gli edifici comunali siamo in pieno fermento dei lavori perché la recente approvazione dei bandi di rigenerazione urbana ci hanno consentito di sistemare una serie di immobili che sono tutti in corso di progettazione e di completamento. A breve avremo anche la possibilità di appaltarli, parliamo della metà del 2023 e quindi riusciremo a dare anche prestigio a tanti immobili che attualmente sono in disuso. Al quartiere Angeli porte di calcetto e rete di protezione all'ex bocciodromo. Un piccolo regalo di Natale rivolte ai bambini e ai ragazzi del quartiere Angeli è così che viene annunciato l'arrivo di porte di calcetto da sistemare all'interno dell'ex bocciodromo grazie alla sinergia tra amministrazione e associazioni. L'amministrazione comunale infatti si occuperà delle porte di calcetto e della messa in opera, sia delle porte che della rete di protezione con i relativi pali che invece vengono donati da alcune realtà del territorio e cioè Caritas, Fidas, Legambiente, Rotary e Slow Food. Un'idea che viene incontro alle esigenze dei giovani che vivono nel quartiere. Ce l'ho fatta una rete bella alta e due porte e di là è venuta l'idea di fare rete, quindi abbiamo chiesto al comune, il sindaco si è mostrato subito disponibile a recuperare due porte di calcio e poi altre, Legambiente e altre associazioni come la Fidas, come la Caritas, come Slow Food, come Rotary, ecco, si sono messi a disposizione e hanno comprato la rete, i tubi per fare appunto, per fare questo regalo di Natale ai ragazzi. Abbiamo colto volentieri l'invito di Legambiente e di altri partner, degli altri partner interessati a questo progetto e voi sapete che Fidas, insomma, da oltre 50 anni è impegnata nel sociale e quindi abbiamo pensato anche nell'ambito di questo progetto che, diciamo, ha come mission alla riqualificazione urbana, quello di poter partecipare e quindi di poter aderire alle richieste che ci sono state fatte con l'obiettivo appunto di reclutare nuovi donatori anche in questa realtà affinché, insomma, la nostra famiglia di donatori, insomma, di Fidas possa crescere sempre di più. Aggiungo che quest'anno per Fidas sarà un anno storico, poi magari ne parleremo a fine anno, però i numeri che raggiungeremo nel 2022 ci incoraggiano, insomma, per il proseguo anche dell'anno a seguire. Raggiungeremo, credo, il record di donazioni mai segnato, insomma, in questi 50 anni. Le porte verranno installate nello spiazzeggiamento che si trova vicino alla scuola e al terreno in cui si sta realizzando l'orto sociale che verrà consegnato nel mese di marzo. È stata fatta l'aratura, è stato fatto lo spietramento, deve essere fatta ancora un'ulteriore aratura, un'ulteriore, come si dice, una fresatura che sarà fatta però a ridosso della consegna degli orti. Saranno 30 lotti da 40 metri quadrati, una parte saranno destinate alle famiglie più svantaggiate del quartiere, altre saranno andate ad associazioni, a chiese, a chi alla scuola che è qua vicino. Sono stati fatti lavori idraulici, elettrici, ecco, si sta predisponendo il tutto per essere pronti, ripeto, ai primi di marzo. Un cucciolo di pitbull stamattina vagava per la statale 640, l'arteria stradale che collega Caltanissetta ad Agrigento, con il rischio di essere investito dalle vetture in transito. Dopo la segnalazione, arrivata in sala operativa, in questura Caltanissetta e i poliziotti della sezione volante, hanno rintracciato il cucciolo che tremava smarrito, poi lo hanno rifocillato con biscotti e dell'acqua. Il cucciolo è stato poi consegnato agli agenti della Polizia Municipale di Caltanissetta, che hanno provveduto a fare gli opportuni accertamenti sul possesso di microchip del piccolo cucciolo. È quanto fanno sapere dalla questura Nissena in un post su Facebook. La particolare operazione di polizia è stata utile per salvare la vita del cagnolino, che rischiava di finire investito da un'auto e a garantire la sicurezza della circolazione stradale sull'arteria extraurbana sempre molto trafficata. Escinio Lanotti sarà Mario Incudine nel cuore della Sicilia, con il suo concerto alla Chiesa Madre di San Cataldo, il servizio. Escinio Lanotti, si chiama così il concerto di Mario Incudine, che sta portando in giro per la Sicilia durante le festività natalizie, tra chiese e teatri siciliani. In una matrice cremita, ieri l'artista si è esibito a San Cataldo, nell'arco del calendario delle festività san-cadaldesi denominate Tutto un altro Natale. Escinio Lanotti è il nostro concerto dedicato al Natale in Sicilia. Fra tutte le tappe, in tutte le chiese, i teatri siciliani, oggi tocchiamo questa bellissima cattedrale, questa bellissima Chiesa Madre di San Cataldo. Sono contentissimo di essere qui, mi lega a San Cataldo un affetto antico, e quindi ritornare qui dopo circa dieci anni è una grande gioia, una grande emozione. Raccontare la natività ha un valore importantissimo, perché grazie a questi canti, al recupero di questa memoria, ricordiamo e ci riappropriamo della nostra identità. Ritorniamo a essere comunità e ritorniamo a raccoglierci attorno alla parola, alla canzone, alla neni, alla novena, alla pastorale. Tutto questo repertorio è un repertorio che in qualche maniera unisce, e sono felice di poterlo rappresentare ancora, perché grazie a questa riproposta, la tradizione che è in materia fluida, si rinnova ogni anno. Lavorare stanca è lo spettacolo di Angelo Maddalena, la biblioteca comunale Scarabelli, tra poesia, prosa e cantautorato, e molto altro a Caltanissette, il servizio. Un canta crona che va in pensione e canta i suoi anni di servizio sociale con chitarra, voce e altre storie. Un libro e un cd appena stampati, è una carriera bruciante di artista famoso in incognito. Così si definisce Angelo Maddalena, originario di Pietra Persia, da anni oramai trappiandato in Umbria, che alla biblioteca Scarabelli si è esibito nelle letture di poesie di Cesare Pavese, Pierpaolo Pasolini e testi di sua madre nel suo spettacolo Lavorare stanca, accompagnato dalla sua compagna di viaggio, la chitarra. Il canta storie è una definizione importante, anche perché in realtà nel senso moderno del canta storie, perché quello antico come io, quando ho iniziato a fare il canta storie, negli anni 2000, 20 anni fa, un mio amico mi disse tu stai resumando un cadavere. E effettivamente poi ho rielaborato la tradizione del canta storie in forma di cantautore, scrittore e anche piccolo editore dell'autoproduzione di Malanotte. In realtà i canta storie erano autoproduttori, soprattutto, perché dipingevano le storie illustrate, facevano le cassette e le vendevano per strada dopo il concerto, e cantavano, e scrivevano i testi. Quindi in questo senso, in quanto autoproduttore, indipendente assolutamente, soprattutto anche dai circuiti, soprattutto dai circuiti industriali, della musica e del teatro, in questo senso canta storie. Questo nuovo spettacolo si chiama Lavorare stanca, con testi di Cesare Pavese, Pierpaolo Pasolini, Leopardi e Flaubert. E purtroppo ci sono anch'io che canto, perché ho scelto i testi di questi poeti per fare un po' un riassunto di questi miei anni. Quest'anno ho compiuto 50 anni, e quindi anche per un po' alleggerire l'ego ho voluto dare la parola a questi grandi maestri. Ma dentro ci sono molte mie canzoni degli ultimi dieci anni, e alcune recenti, le più recenti, registrate nel CD Tutti Positivi, tra cui Tutti Positivi è una canzone, scritta un anno fa e registrata nel CD, allegato al libro Tacquino di viaggio interiore 2020-2022, uscito un mese fa, novembre 2022. Massiccia partecipazione alla mostra Bridge 2022 che si è svolta a Palazzo Moncada, organizzata dall'Associazione Agerica, curata dall'Associazione Creative Spaces. L'ingresso è stato gratuito, possibile visitarla dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. In mostra le opere di Paolo Amico, Patrizia Cataldo, Mauro Fornasero, Serena Di Caro, Stefania Turco, Ivana Urso, Giovanni Di Lorenzo, Michelangelo Lacagnina, Agostino Tulumello, Anna Giannone, Arcangelo Favata, Donatella Frangiamone, Marzia Calino, Emi Balacchino, Stefania Zappalà e Lorenzo Pompeo Lombardo. Lungo il percorso espositivo si potranno visionare anche le opere di artisti americani. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì transita una debole perturbazione sul nord Italia che favorisce quindi un peggioramento su queste regioni anche sull'Alta Toscana mentre sul resto del paese il contesto rimane anticiclonico, più stabile e asciutto. Osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra proprio questo fronte nuvoloso che si avvicina al nostro paese e che determina quindi un peggioramento infatti anche dallo zoom delle piogge notiamo come sarà soprattutto il Levante Ligure a osservare precipitazioni anche moderate così come l'Alta Toscana in movimento poi verso la Val Padana con anche qualche fiocco di neve sull'arco alpino. Vediamo quindi più nel dettaglio il tempo previsto sul nostro paese. Il contesto sarà stabile sulle isole maggiori al sud seppur con qualche foschia o banco di nebbia lungo le coste. Maggior nuvolosità sull'alto versante terrenico e al nord con pioggia a carattere sparso e fiocchi di neve sull'arco alpino a partire dai 1300 metri di quota temperature sempre al di sopra delle medie del periodo con punte anche vicine ai 20 gradi all'estremo sud ma per tutti i dettagli consultate l'app di Prebimeteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Vizzini Viale Trieste Servizio notturno Eufrate Via Filippo Turati Vizzini 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 Grazie a tutti.